Salve a tutti, questo è un messaggio per invitarvi a partecipare ad una serata speciale venerdì 7 ottobre al Teatro dell'Aquila a Fermo dove ci sarò io e ci sarà anche Riccardo Foresi e la Dezza Amore Swinga Orchestra per una serata dove il totale ricavato andrà dato per la ricostruzione dell'ospedale di Amandola è una cosa molto molto importante allora l'ospedale di Amandola ha avuto un sacco di vicissitudini l'hanno voluto chiudere e poi è rimasto aperto ancora combatte la gente per volerlo far rimanere aperto neanche il terremoto è riuscito a farlo chiudere quindi è importante insomma che partecipate a questa serata e a sostegno di un ospedale perché un ospedale in più fa sempre comodo voglia di a voglia fa fa sempre comodo anche perché io perché da Montefortino, da Amandola, da Sarnano potevo arrivare a Fermo oppure in Ascolo lì è scomodo, lì quella zona lì è importante che ci stava un ospedale nonostante nonostante la cosa è stata una serata